Allora immaginiamo una famiglia, immaginiamo una famiglia, immaginiamo il papà, la mamma, i figli, immaginiamo che in questa famiglia avvenga qualcosa di straordinario, succeda qualcosa di imprevedibile, per cui servono soldi per far fronte a questa emergenza familiare. Immaginiamo per un momento che questa cosa, questa famiglia, sia l'Italia, quello che sta vivendo proprio in questo momento. In questa famiglia c'è il papà che solitamente appunto come lo Stato organizza, pensa, provvede eccetera eccetera, in cambio ovviamente della partecipazione degli altri componenti della famiglia, ciascuno contribuisce eccetera eccetera. Arriva questo momento straordinario e questa famiglia ha un papà che deve affrontare un'emergenza appunto per dare modo alla famiglia di poter proseguire, di poter mantenere diciamo certi standard minimi. In questa famiglia c'è il papà che fa fatica perché ha bisogno di soldi per poter fronteggiare il problema. E poi ci sono i figli dall'altra parte che grazie ai loro sacrifici, al loro lavoro, al loro impegno, hanno messo via dei soldi. Hanno messo via, come nel caso degli italiani, 5 mila miliardi. Allora che cosa succederebbe nella vostra famiglia? Cioè riduciamo tutto a una questione più diciamo domestica. Allora il papà ha bisogno di soldi, noi abbiamo lavorato, abbiamo messo via qualche soldino. Quando il papà per dare una mano diciamo alla nostra famiglia ha bisogno, cosa facciamo? Lo mandiamo dallo strozzino a farsi prestare i soldi? Oppure noi una parte, non dico tutti, dei soldi che abbiamo messo diciamo da parte grazie ai nostri lavori, al nostro sacrificio, al nostro impegno, lo mettiamo e glieli prestiamo noi al papà? Ecco, è un po' quello che sta avvenendo in questo momento. Noi siamo in una situazione in cui la nostra famiglia sta mandando sostanzialmente il papà, cioè lo Stato, lo sta mandando in giro per l'Europa e per i mercati con il cappello in mano a vedere se gli prestano qualche soldo. Quando dall'altra parte la famiglia e i figli hanno 5 mila miliardi in banca. Allora, che cosa dovrebbe succedere in una situazione normale? Non so come succede nella vostra famiglia, poi per carità non bisogna mettere sicuramente il becco dentro le cose familiari, ma almeno a casa mia o a quelli che conosco più o meno succederebbe così, che si dice papà guarda io ho da parte dei soldi, non te li posso dare tutti, ma una parte te li posso prestare. Se te li presto ovviamente mi paghi degli interessi, perché ovviamente se io li tolgo da dove ce li ho in questo momento, dove mi danno gli interessi, se le do a te perdo gli interessi e ovviamente ho una perdita finanziaria. Allora che cosa fa il papà? Il papà dice va bene allora grazie, se me li presti tu facciamo così, anziché pagarti gli interessi che pago diciamo all'esterno a tutti, ti do un pochino di più ed è lo spirito sostanzialmente di questa legge. Esiste una legge che è stata depositata in Senato, l'ho depositata il 28 ottobre del 2019, quindi già l'anno scorso, in tempi non sospetti, già l'anno scorso io che cos'è che dicevo? Dicevo guardate che se abbiamo 5 mila miliardi di risparmio privato perché dobbiamo continuare a vivere nell'incubo dello spread? Lo spread non esisterebbe se portassimo a livello domestico questo debito e a livello domestico non parlo soltanto di banche ma parlo soprattutto di famiglie. Perché parlo di famiglie? Perché noi abbiamo perso l'abitudine già negli anni 80, negli anni 80 cosa succedeva? Tu compravi i bot, li mettevi sul tuo contotitoli e lì ti venivano accreditati gli interessi ed era una partita tra te e lo Stato. Questa cosa qua non è più avvenuta, le banche comprano loro i BTP, comprano loro i titoli di Stato, se li mettono nei loro bilanci e cosa succede? Succede che se lo spread sale loro sono costretti a ricapitalizzare, cioè a metterci soldi loro perché in quel momento, quella fotografia di quel momento mentre loro stanno facendo il bilancio, certifica che quei titoli di Stato valgono meno di quanto loro li hanno acquistati e quindi devono appunto ricapitalizzare. Questo non succede per le famiglie perché la famiglia cosa fa? Prende i suoi 3.000 euro, i suoi 5.000 euro, i suoi 10.000 euro, decide che li investe in un BTP a 10 anni, come si faceva? Una volta c'erano anche i buoni fruttiferi, forse ci sono ancora oggi, anzi ci sono ancora oggi i buoni fruttiferi postali. Io mi ricordo che appunto mia nonna, piuttosto che, avevano questi buoni, chi era un po' più semplice, appunto gli anziani magari prendevano appunto i buoni fruttiferi postali, mentre invece appunto c'era chi comprava già allora i titoli di Stato, i BOT, piuttosto che i CCT, allora i BTP eccetera. Quindi tu metti lì i tuoi soldi, questi 10.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro, 20.000, quelli che sono, e tu dopo 10 anni hai la sicurezza di riavere il tuo capitale e nel frattempo hai incassato ogni 6 mesi gli interessi. Oggi se un italiano prende un BTP a 10 anni ha una cedola, ha un interesse dello 0,80-0,88% netto. Allora, noi cosa diciamo in questa legge? Cioè diciamo sostanzialmente che se l'italiano sceglie di comprare e di investire in titoli di Stato italiani, ha non solo lo 0,88%, ma ha anche un credito fiscale e gli viene azzerata la ritenuta. Questo cos'è che porta poi in soldoni? Porta ad avere, anziché quello 0,88% si traduce in un 1,5%, 1,6%, 1,7%. Comincia a diventare una rendita appetibile che si coniuga, che cosa? Alla sicurezza dell'investimento. Quindi tu da una parte hai una rendita comunque appetibile garantita dallo Stato, hai la garanzia che lo Stato comunque ti preserva il capitale, perché tu a differenza di magari altre istituzioni finanziarie, dove purtroppo i risparmiatori hanno investito e poi si sono ritrovati in braghe di tela, che per fortuna la Repubblica Italiana non ha mai dato sole a nessuno e ha sempre restituito tutti i capitali, ha sempre onorato tutti i suoi impegni. Quindi mettere dei soldi, investire oggi dei soldi in titoli di Stato significa avere la sicurezza, la certezza di preservare il proprio capitale. In più hai la possibilità di avere una rendita comunque vantaggiosa, una cosa importante, appetibile a livello di mercato e quindi perché dover continuare ad andare con il cappello in mano in Europa, nei mercati internazionali, eccetera, a chiedere aiuto, questa famiglia va a chiedere aiuto quando in realtà ha i soldi per poter sostenere le sue emergenze, le sue necessità, come in questo momento, tra l'altro sottraendosi, lo ripeto, dall'incubo dello spread. Allora ci vorrebbe un moto di fierezza nazionale, la legge c'è, è stata depositata in Parlamento ad ottobre dell'anno scorso, prevede l'istituzione di CIR, Conti Individuali di Risparmio, dove tutte le famiglie italiane, aprendo questo CIR, possono far atterrare, tra virgolette, questi titoli di Stato che non vanno dentro i bilanci delle banche, ma sono direttamente posseduti dalle famiglie e quindi gli viene riconosciuto gli interessi e alla fine alla scadenza gli viene ridato il capitale. Naturalmente se uno vende prima il titolo di Stato, lo può fare, ovviamente perde tutte le garanzie, ma questo è assolutamente normale. Allora, non dico tutti i soldi, non dico tutti i risparmi, lo dico soprattutto perché c'è la preoccupazione delle banche, perché le banche dicono se voi emettete un titolo così appetibile con la forza che ha lo Stato appunto di garantire il capitale, rischiamo che poi tutti quelli che hanno messo i soldi da noi, se li portino via e noi ci ritroviamo con dei problemi, effettivamente uno potrebbe dire, beh chi se ne frega i problemi delle banche, in realtà poi trovarsi dei problemi significa che ci sono i mutui fatti alle famiglie, significa che ci sono i soldi dati alle imprese, magari non tutte eccetera eccetera, però si creerebbe uno squilibrio dall'altra parte. Ecco perché ad esempio in questa proposta di legge noi avevamo previsto per iniziare, non c'era ancora l'emergenza coronavirus, era già stata messa in questa proposta di legge in tempi non sospetti, avevamo previsto 15 miliardi di raccolta per iniziare sperimentalmente a riportare gradualmente il debito nelle mani delle famiglie italiane, che significa sottrarre l'Italia dal gioco internazionale dello spread, delle patenti di credibilità e tutto quel balletto a cui ci siamo abituati in questi anni, non rendendoci conto che in realtà noi siamo un paese, ma non lo dico soltanto io, lo ha detto Bazzoli che è il presidente emerito di Banca Intesa San Paolo, la più grande banca italiana e una delle maggiori a livello mondiale, che dice abbiamo 5 mila miliardi di risparmio, non abbiamo bisogno di andare all'estero a chiedere denaro, possiamo tranquillamente sostenerci il nostro debito. Quindi uno potrebbe dire sì ma se tu dai un po' più di soldi a quelli che comprano questi titoli alla fine aumenta il debito perché aumentano gli interessi, ma dall'altra parte non aumenta il costo cosiddetto del servizio del debito attraverso il meccanismo attuale? Tutte le volte che lo spread schizza aumenta poi quello che viene chiamato il servizio del debito. Quindi a questo punto mi chiedo, non è meglio già mettere in sicurezza il nostro debito, pagare un pochino di più agli italiani ma conservare la nostra autonomia, conservare la nostra sovranità, conservare il nostro modello così come noi lo vogliamo senza farci imporre regole dal di fuori. Poi starà a noi, alla nostra responsabilità, fare il meglio con questi denari. Ma di fatto oggi noi abbiamo la possibilità di dare noi una mano al Paese.